Wabalaba dab dab, bentornati su No Mamamazzo, torniamo a parlare di Flash, episodio 1 della stagione 7. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi, di condividere il video con tutte le persone che corrono molto veloce e di commentare qui sotto con tutto quello che ve ne è parso di questo video. Iscrivetevi anche agli altri miei social per rimanere sintonizzati su tutte le mie piattaforme. Ora parliamo di Flash. Flash, episodio 1 della stagione 7. La stagione 7 è finalmente cominciata dopo che era stata rimandata varie volte, tra cui l'ultima volta per fare spazio al primo episodio di Superman & Lois, che tra l'altro ho pure guardato e recensito, vi metto il link qua nelle schede e anche qua in descrizione, però sappiamo anche noi fan accaniti di questo telefilm che in realtà non doveva andare così, nel senso che in realtà noi stiamo guardando quello che è il finale della sesta stagione, che era stata interrotta a causa della pandemia e che quindi non ci ha dato un vero e proprio finale. Hanno fatto un finale cliffhanger, che per carità succede sempre nelle serie TV, hanno fatto un finale cliffhanger su Barry Allen che scopre che Iris, la sua moglie Iris, non è davvero sua moglie e che sua moglie è nel Mirrorverse, nell'universo specchio, però finiva così. Qua vediamo quella che è la vera fine della sesta stagione. Come sappiamo che è ancora la sesta stagione in fin dei conti? Perché c'è lo stesso Wells, sapete che in ogni stagione c'è un Harrison Wells diverso, qui abbiamo ancora Nash Wells, ma poi ci arriviamo a questo argomento. Però hanno comunque inaugurato benissimo la settima stagione, non con un vero e proprio nuovo costume di Flash, comunque se lo hanno cambiato, lo hanno cambiato nei dettagli e non si nota proprio così a occhio nudo, però c'è una fantastica miglioria al costume di Flash che appare che abbia il cappuccio che, ricordando un po' le nanotecnologie di Iron Man in Endgame e Infinity War, ha questo cappuccio che compare dal nulla e gli si forma addosso. Effetto speciale che hanno sicuramente usato per la prima puntata, poi penso che questa cosa non si vedrà più di tanto perché comunque è un effetto speciale costoso e non credo che la utilizzino, ma è molto utile anche ai fini, proprio a livello di comodità nel girare le scene, perché se ci fate caso, Grant Gastin ha sempre finto di mettere e togliere il cappuccio di Flash, cosa che invece poi appariva sempre fuori scena, cioè che noi non vedevamo questo gesto, perché effettivamente il cappuccio di Flash quando è giù è molle, non è rigido, quindi con questo escamotage hanno un po' risolto anche questo problema. Per quanto riguarda invece tutto il team Flash, tutti i personaggi comprimari, siamo davvero orfani di tantissimi personaggi, Sisko manca l'appello, Caitlin manca l'appello perché l'attrice è probabilmente ancora in maternità, al di là del personaggio di Iris che per quanto sia nel Mirrorverse, comunque l'attrice c'è anche se non comunica con gli altri attori, abbiamo Ralph Divney assente perché tutti sappiamo la vicenda dell'attore che è stato appunto licenziato dalla CW per dei vecchissimi tweet in cui aveva un comportamento per niente carino, un comportamento con un umorismo davvero nero verso determinate categorie di persone, un atteggiamento quasi da bullo, si parlano ovviamente di tweet del passato, che però come sappiamo in America si ripercuotono anche sul presente, è successo a James Gunn, è successo a un sacco di cose. Il passato di Twitter perseguita il presente degli americani. Nella finzione della narrazione il personaggio di Ralph Divney insieme al personaggio di Sue sono in missione, quindi anche loro sono assenti, ma saranno assenti entrambi, a meno che non torni solo l'attrice che fa Sue, non lo so, era molto brava, la sua trama era molto interessante, sarebbe carino vederla tornare, però non credo succederà. La storia finisce dove l'avevamo lasciata, ovvero Barry che cerca di inventarsi un modo per creare una sua forza della velocità dopo che nella sesta stagione, grazie anche a Bloodwork, aveva rovinato la forza della velocità che si sta sgretolando. Quindi vediamo che il personaggio nuovo di Chester Pirank, che in questo episodio fa le veci di Sisko Lamonts, che appunto è assente, e si sta occupando della parte scientifica del Team Flash per fargli trovare la forza della velocità. Pare che finalmente siano riusciti a trovare un modo per donare a Barry Allen questa forza della velocità. Pare che l'unico modo per incanalare l'energia, per creare una forza della velocità artificiale, sia prenderla da qualcuno che è pervaso dall'energia di quello che è stato il multiverso. Questo qualcuno è Nash Wells. Ora, perché proprio Nash Wells, dato che tutte le persone avevano una controparte nel multiverso e nelle altre terre? Forse perché Nash Wells non si trova nella sua terra d'origine. Quindi questo sfasamento può averlo messo in contatto con tutti gli altri Wells. Forse perché Nash Wells è stato paria, o paraia, se l'avete visto in inglese, e quindi è a contatto con l'evento che ha creato questa nuova singola terra. Sto dicendo motivi, ovviamente, nella finzione narrativa. Si sa che probabilmente è una sceneggiatura un po' deboluccia, come disse Deadpool. Però, ecco, nella finzione narrativa potrebbe essere questo uno dei motivi per cui solo Harrison Wells percepisce gli altri se stesso delle altre terre. Fatto sta che noi vediamo una fantastica prova d'attore di Tom Kavanagh, che ci mostra di nuovo una spolveratina di tutti i suoi vecchi Wells, tant'è che il titolo dell'episodio è All Wells and Wells, che è un gioco di parole tra il cognome Wells e tutto è bene ciò che finisce bene, anche se non è che finisce proprio bene questo episodio. Vediamo appunto di nuovo Sherlock Wells, vediamo HR, vediamo Harry Wells, che come sapete, se mi seguite, è il mio Harrison Wells preferito. Tutti che parlano un po' nella mente di Nash Wells. Quando avevo visto il trailer e lo avevo commentato, e lo avevo commentato anche nella live sul sito Viola, un pochino ci avevo azzeccato sul fatto che mi sembrava che Barry Allen, scusate, che l'attore Grant Gustin dovesse interpretare un ruolo che era stato di Tom Kavanagh, ma io pensavo che Barry Allen in qualche modo interpretasse l'anti-flash in questa settima stagione, che appunto l'entità di Eau Barton finisse nel corpo, se non di Barry Allen, nel corpo del Barry Allen del Mirrorverse, in modo che appunto l'anti-flash avesse in tutto per tutto anche l'aspetto di Flash. In realtà, non ho proprio indovinato, però in questo episodio vediamo Grant Gustin interpretare tutti i ruoli che aveva interpretato Tom Kavanagh, ovvero perché Barry Allen viene posseduto per un certo numero di scene dalle varie personalità dei vari Wells, quindi lo vediamo interpretare Sherlock molto bene, lo vediamo interpretare H.R. non tantissimo bene perché non ha questa capacità di far ruotare le bacchette come Tom Kavanagh, però continuava a tamburellare, non mi è piaciuto molto, lo vediamo interpretare Harry Wells molto bene, avere un bel faccia-faccia con Nash, mi è piaciuto molto questa interpretazione di Grant Gustin. Per quanto riguarda invece la trama di Eva, scopriamo delle cose interessanti, innanzitutto vediamo in una scena che si libera in fretta di quello che è stato il Mirror Master delle prime stagioni, che era un personaggio secondario, qua invece lei è la nuova Mirror Master e è chiaramente un big bad, è un villain, è un boss finale diciamo, e quindi la vediamo eliminare un po' le sue versioni precedenti del Mirror Master e scopriamo che anche il primo Mirror Master che avevamo visto era una creazione di Eva, ma poi scopriamo ancora una cosa più sconvolgente che Eva stessa è una creazione dell'universo specchio, del Mirrorverse, quindi suo marito, che lei ha ucciso nella stagione scorsa, non ha mentito quando gli ha detto mia moglie è morta nell'incidente, è effettivamente morta, è stata sbattuta contro uno specchio e questo colpo che è risultato fatale per Eva, per la vera Eva, ha anche creato la Eva dell'universo specchio, che quindi in realtà non è davvero un essere umano. Ora non so questo, come influirà sul futuro di questo personaggio, sulla psiche di questo personaggio, però vedremo, vedremo cosa succederà, vedremo se cadendo l'universo specchio, se sgretolandosi l'universo specchio, anche Eva stessa dovrebbe sgretolarsi. In teoria come è successo alla Iris specchio che abbiamo visto nell'ultima puntata della sesta stagione, quindi vediamo se Eva cercherà di fare tutto e per tutto per sopravvivere. Scopriamo che la bionda che abbiamo visto nei trailer era Top, la fidanzata del Mirror Master delle prime stagioni, che ha una sua trama che ha a che fare con il finalone d'azione della trama verticale di questo episodio, poi non so se la si vedrà ancora nei prossimi episodi, ma non credo. Vediamo interagire Chester, Piranka e Allegra, magari potrebbe nascere una nuova storia d'amore, una love story tra questi due personaggi, può essere perché fino ad allora Allegra aveva un rapporto solo con Nash Wells e non è mai stato sviluppato molto bene. Come se avete visto l'episodio, avete visto che Nash Wells non ci sarà, a quanto pare, nei prossimi episodi, quindi probabilmente per legare meglio il personaggio di Allegra al team Flash ci sarà un interesse magari con Chester Pirank. Concludiamo con Nash Wells. Abbiamo visto che Nash Wells si è sacrificato per dare la forza della velocità a Barry Allen. Vediamo che non solo Nash, ma tutti gli Harrison Wells dicono addio a Barry Allen. Quindi la mia domanda è, ci sarà ancora l'attore Tom Kavanagh nel cast? Non credo che per la trama, per la narrazione, eliminino un personaggio così fondamentale. Sicuramente troveranno un modo per rificcarcelo dentro nel team Flash, oppure troveranno il modo di rificcare dentro l'anti-flash con le sembianze appunto di Tom Kavanagh. E quindi in questa settima stagione potrebbe esserci come villain ancora l'anti-flash, cosa che un po' ci spero, anche se spero finalmente di vedere il confronto finale con Godspeed. Fatemi sapere voi che speranze avete su questa settima stagione, fatemi sapere se vi piace l'idea che io possa fare la recensione di ogni singolo episodio. Ovviamente io inizierò a farlo finché la qualità degli episodi mi soddisferà. Nel momento in cui non ho più voglia di recensire ogni singolo episodio, farò una recensione totale magari sulla settima stagione, oppure ne parlererò solo in live sul sito Viola. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.